Poi un altro punto di forza che ha questa regione è la sua bellezza, la bellezza che ci ha donato Dio, che noi dovremmo rispettare di più, penso ai fiumi per esempio, penso anche a questo formidabile parco che è il parco del mare Adriatico, il mare Adriatico sarà il parco più grande di cui dispone l'Abruzzo e noi lo rispetteremo come giusto che accada, sia dalle invasioni degli UFO, perché ci sono UFO che si sono messi in cammino, ma poi riconcilieremo l'acqua salata del mare con l'acqua dolce dei fiumi e lungo la dorsale Adriatica faremo una pista ciclabile a tempo di record. Il mare Adriatico sarà il parco più grande di cui dispone l'Abruzzo e noi lo rispetteremo come giusto che accada, sia dalle invasioni degli UFO, perché ci sono UFO che si sono messi in cammino.